In questa folle Babilonia del 2000 l'anapia non è un'utopia In questa folle Babilonia del 2000 l'anapia non è un'utopia Nonostante il divieto di accendere i fuochi Nella foresta di Mercadante, Castellano delle Murge, porta a sud del Parco Nazionale dell'Altamurgia I fuochi si accendono per riscaldarsi Non fornacelle quindi, non piccoli barbecue tradizionali Ma fuochi alti un metro, un metro e mezzo per riscaldarsi nel pieno dell'area picnic Grazie per la visione! Grazie per la visione!